Bella raga, ciao a tutti dal commentone veneziano, vai la tappa 4, 5, 6 del... ...belli di Finlandia, andiamo dai, siamo al secondo posto del generale, al 5 secondi da Sebastiano. Ora vai vai vai, tornando a destra, salta lì all'esterno, scivoloso, poi salto. Giuppi! Inizia a 5, lunga, scivoloso. Inizia a 4, inizia a 3, lunga. 60, inizia a 4, poi inizia a 4, 100, attenzione, stai in mezzo, inizia a 4, molto lunga, attenzione. Non sono partito però, mi ricordo che però sono un rally, un rally tipo inizia a 4, inizia a 4, inizia a 4, inizia a 5, inizia a 5, inizia a 5, attenzione, salto, attenzione, vai al centro, diventa a destra a 6, e salto, e 40, destra a 3, scivoloso, e destra a 3, andari all'esterno. 8, tornando inizia a 5, scivoloso, diventa a destra a 6, andari all'esterno. Sinistra a 5, dentro a 6, attenzione, diventa a destra a 2, andari a destra, e salto. Poi sinistra a 5, sova, rosce all'esterno. 40, attenzione, salto, salto, attenzione, e salto, rosce all'interno. Sinistra a 3, dentro, attenzione, salto, rosce all'esterno, poi salto, attenzione, destra all'introso, taglia, attenzione, distringe. 40, sinistra a 4, poi destra a 3, 4, poi sinistra a 3. No, non ci voglio, credo, ma perché putto via così, ragazzi, perché? 40, attenzione, attenzione, da in mezzo, interi all'interno, e salto. Non fa finita, non è nessuno, no. 40, all'esterno, interi 4, chiuda. 40, poi sinistra a 3. No, ma porca puttana, vado a sbagliare, va bene. Non ho parole per descrivere questa quarta tappa. Ho vinto! Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Siamo a 4 secondi. Non ci voglio credere, bug assurdo, cioè bug, baneggio, come indiano. Scusate, ragazzi, i momenti sono sempre più difficili per il comendone. Ok. Ok. E la macchina c'è. Vai a gara. Tappa number five. Tappa number five. Vai ragazzi, questa mi sembra una tappa lunga, no? Sì. 8 chilometri di passione, ragazzi. Mamma mia. 3, 2, 1. E' una tappa lunga, ragazzi. Be curate. e' una demostratrice. Tappa lunga. La tappa è pot 210 e 1000. E' una試usta dentro. oh si credo non si voglia di credere 40 Liatra 5 Kroche all'esterno Atenzione salto Liatra 2 Tanto per lunga posso esperar attenzione Liatra 3 Rocce all'esterno. 80. Stai al centro. Sinistra 3. Si stringe. Dentra 5. Rocce all'esterno. Salto. Coppa. 4. Molto lunga. Poi dentro a 2. 60. Sinistra lì in dotto. Prendo a mano. Dentro. Eccola che muovi e sta pronta. Eccola che muovi. No. Ho sbagliato. È un po' più strano. Non ci voglio credere. Eccola che muovi. Ma vabbè. Molto male. Ci guarda lì su per tutto. 40. Destra 3. Cibo lotto. 100. Sinistra 3. Destra 3. Rocce all'esterno. 200. Attenzione. Balto. Destra 3. Molto lunga. 40. Destra 3. Sinistra 5. Alta via all'interno. Destra 5. Poi finistra 5. 80. Coppa. Destra 4. Troppo alter. Grecoia. Finistra 3. Destra 3. Troppo recuperato. Troppo recuperato. Troppo è. Questa è una etapa che se la faccio vedere impeccabile. Era una gran vittoria. Troppo. Attenzione. Salto. E salto. Dentra 3. Troppo salto. Attenzione. Salto. Poi salto. Poi salto. Poi destra 3. Attenzione. Coppa. E sinistra 3. Coppa. Sinistra 5. Destra 5. Alta via all'interno. E sinistra 3. Intornante a destra. Coppa. Attenzione. Sinistra 2. Venta a sinistra 5. Cento. Andiamo a giustare senza riprendere l'albero in pieno. Attenzione. Poi a sinistra. Coppa. E salto. Destra 5. Sinistra 5. Poi destra 4. Destra 3. Sinistra 4. 200. Sai al centro. Attenzione. Destra 6. E salto. 70. Rocce all'esterno. Attenzione. Coppa. Poi sinistra 2. Destra 3. Mamma mia che devi schioffi. Poi destra 4. Sinistra 4. Destra 3. Molto lunga. Non ci credo. Non ci voglio credere. Ma no. Che fail mondiale. All'ultimo secondo. Era vittoria. Terzo. Vaffa culo. Parole. Non ho parole. All'ultimo retilineo. Beccola scosma. Andate a cagare tutti. Ma vaffa culo. Sto gioco sono anche sfigato. Però sicuramente non sono un fenomeno. Però sono anche sfigato. Cazzo con una macchina lenta e tutto. Riuscire a fare sti miracoli. Vai. Uno. Go, go, go. Finistra 4. Eh, la macchina è andata. Finistra 4. Lunga. Diventa destra 5. Lunga. Rossi all'esterno. Finistra 6. Lunga. E tanto. Destra 6. Molto lunga. Poi finistra 6. Alto. Destra 3. Lunga. Finistra 4. Vado a provare. Che nemmeno devo ricciare tutto per tutto. Attenzione. E 60. Coppa. Diventa destra 6. Sinistra 6. Molto lunga. Attenzione. Alto. Andavia all'esterno. Sinistra 4. 60. Attenzione. Destra all'imposto. Freno a mano. No, l'acqua. Sì, sei a dentro. Aspetta così. Ricardino all'imposto. Sinistra 3. Diventa sinistra 4. Si dirige. Roccia all'esterno. Lunga. E' amante di rotta. Attenzione. Salto. Dai al centro. Sinistra 3. Lunga. Poi destra 4. Lunga. Qua delle che punti è l'ultima gara. Ancora. Soppa. Diventa destra 3. Possiamo vista rotta. 40. Diventa sinistra 4. Alguagli all'esterno. Sì vecchio, il problema è insieme, premona. Sto cercando di perdere anche il secondo posto, non si crede. Non ci voglio prendere. Total Disastrum. Disastrum assoluto. Quarto, madame. 109 punti, buttato via tutto all'ultima gara. No, bisogna di coglione. Però non so che sfigare, che sbordo. C'è puttana miseria, vabbè. Andiamo a vedere la prossima tappa, il prossimo rally. Ho preso una macchina troppo scarsa. Non avendo quasi mai giocato a WRC, ho sbagliato. Oh, rally di Germania. Raga, un saluto da il cumendone veneziano. Ciao! Cummenda veneziano, cummenda veneziano, cummenda veneziano, lo youtubers italiano. Cummenda veneziano, cummenda veneziano, cummenda veneziano, lo youtubers italiano.